100 stai a sinistra e 3D 15 10 5 4 3 2 1 100 stai a sinistra e 3D con tante sinistri per 3D per 3A Luca per 3D per 3A Luca e 50 destri e 6D e 3D Luca chiude e 2A e 2A 50 2A tra le case e 2D 50 4D 100 3D 4D porta per 4A per 3D e 3D e 3A per 3D apre taglia porta e 3D Luca per 4A per 4D per 4D corta e 3A lunga e 4D e 4A e 4D e 4A per 3D per 3A lunga cambio strada cambio strada cambio strada cambio strada 3D 3D c'è uguale prima a 100 per 5A e 3D per 4A e sul dosso vai 5 stop 2A 5D stop 2A 5D stop 2A per 5D per 5A e 4D 50 50 sul dosso in centro e 5D 50 per 4D per 4A stop 3D subito tornante sinistro buono spedio di 7 tornante destro 80 4D 50 la race sporca scivola 2A 80 6A per attenzione 0D lunga lunga sporca anche questa staccata lunga lunga è sporca e 4A va in accelerazione e 4A 50 cambio strada destra 90 per 4A in ritarda 3D apre e 5D per 4A chiude 3 5D per 4A chiude 3 per 5D corta e 2D 2D per 3A e 2A per 3D 50 tossati per 3A per 4D per 3A chiude 2A per 4D per 4D per 4D per 4D in 3D chiude 2D continua 3D per 3D accelera 50 per 2A per 2A per 2A per 2A per 3A per 3A per 4D per 4D per 4D hai abbassato di 6D 7D bravo Andrea bravissimo ci siamo arrivati per Johnny per Johnny signori solo per lui grande motore Johnny grande motore bravo bravo via